Lavoro giovanile nelle marche aumentano precariato e part time Allemercato pesarese ambulanti uniti contro la violenza di genere Investigazioni private cresce la richiesta di controllo dei minori Il capodanno pesarese sarà con Colapesce e Di Martino La visse Pesaro pronta a spegnere 125 candeline Una buona serata telespettatore di Rossini TV e benvenuti in questa nuova edizione di Rossini News telegiornale di oggi martedì 28 novembre che apriamo parlando di lavoro Gli ultimi dati sull'occupazione rivelano infatti che le marche ha una crescita dell'occupazione ma trainata dall'aumento però del precariato Le retribuzioni restano sotto la media nazionale soprattutto per quanto riguarda gli under 30 Vediamo il servizio Nelle marche cresce il numero di lavoratori occupati del 3,5% ma è una crescita segnata dal lavoro precario e inferiore rispetto alla media italiana E questo è il quadro che emerge dall'ultima rilevazione sui dati IMS elaborati dall'IRS-CGL Cresce infatti il numero dei lavoratori part time che rappresentano il 32% del totale e un lavoratore su 4 risulta a tempo determinato Il precariato colpisce maggiormente i giovani ad avere un contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato è infatti il 34% degli under 30 mentre risultava il 48% dieci anni fa Il 48% degli under 30 percepisce una retribuzione lorda media annua inferiore ai 10.000 euro Nel complesso i lavoratori marchigiani con meno di 30 anni percepiscono una retribuzione media lorda annua di 12.102 euro ovvero 8.000 euro lord in meno rispetto alla media della totalità dei lavoratori dipendenti privati Per le lavoratrici il quadro complessivo non è migliore risultano ancora significative differenze retributive tra uomini e donne le quali percepiscono mediamente 7.200 euro lord in meno rispetto agli uomini circa il 30% in meno Più della metà delle lavoratrici delle marche hanno un rapporto di lavoro part time Solo una su tre ha un contratto a tempo indeterminato Un quadro che secondo la CGL dimostra come le politiche attive per il lavoro attuate dalla regione non abbiano prodotto quell'inversione auspicata per dare avvio ad un inserimento degli under 30 Secondo il sindacato regionale se i giovani hanno retribuzione di poco superiore ai 12.000 euro medi lordi annui e quasi il 40% a un contratto part time non ci si può sapere se poi trovano opportunità al di fuori delle marche E ora cambiamo argomento perché oggi il Tribunale di Urbino ha dichiarato colpevoli di lesioni colpose 4 dei 7 imputati ritenuti responsabili del grave ferimento dell'ex soldato Vanessa Malerbi rimasta gravemente ferita durante un'esercitazione militare a Carpegna nel 2018 Durante un'esercitazione con colpi di mortaio del 187esimo reggimento della Folgore una pioggia di scheggi investì la Malerbi che prestava servizi in una vicina ambulanza causandogli gravi danni permanenti alla vista, all'udito e alla mobilità I militari Alessandro Vecchi, Fabio Filippone, Claudio Marchesi e Alessio Prisco dovranno corrispondere a una provvisionale di 200.000 euro E il superamento delle 25 novembre, giornata nazionale contro la violenza sulle donne non spegne l'attenzione su questa tematica Oggi è arrivato in tal senso un messaggio di sensibilizzazione dagli ambulanti del mercato di Pesaro Basta violenza sulle donne, stop femminicidi Anche a tre giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne non si spegne la eco su questa tematica Continuano le iniziative di sensibilizzazione in tal senso Una di queste arriva dal mercato settimanale del martedì al San Decenzio di Pesaro dove gli ambulanti con questo piccolo gesto hanno voluto trasferire un grande messaggio ai tanti avventori del mercato Ogni stand, ogni bancarella ha affisso uno di questi messaggi per portare un piccolo grande contributo verso un cambiamento culturale Noi vorremmo sensibilizzare quelli che sono appunto questi femminicidi che ogni giorno sono sempre in aumento e vogliamo dire basta da uomo, da cittadino e da persona Noi abbiamo veramente un cuore e vorremmo che le donne fossero rispettate molto di più quindi solidarietà massima e le donne vanno rispettate come dicono questi cartelli e non uccise Ambulanti che si impegnano verso questa sensibilizzazione clienti che apprezzano quello che è rimarcare un messaggio tutt'altro che scontato Credo che sia importante perché alla luce dei fatti avvenuti negli ultimi giorni comunque si capisce che c'è un problema sociale che va trattato e secondo me siamo anche diventati ormai abituati a tutti questi episodi e non fanno nemmeno più scalpore come poteva essere qualche anno fa quindi credo che sia bene ricordare ogni singolo episodio per quello che è stato e per quello che ha provocato e per le perdite che ha dato insomma E cambiamo nuovamente argomento perché oggi dedichiamo un approfondimento al tema delle investigazioni private nel nostro territorio da quelle aziendali a quelle legate alla infedeltà coniugale fino ad una novità crescente le investigazioni su giovani problematici Ne parliamo con Alessandro Giuliani amministratore della società Control Service 26 anni di esperienza nel settore delle investigazioni private parliamo oggi di Control Service azienda leader di questo settore che è dal territorio pesarese poi si dirama in investigazioni un po' in tutta Italia Alessandro Giuliani è il titolare della Control Service il tema delle investigazioni è un tema che continua a essere al centro comunque di un'attività importante investigazioni aziendali, investigazioni private questi diciamo i focus sui quali vi concentrate Sì, diciamo che ultimamente lavoriamo molto più sulle indagini aziendali quindi per conto di aziende soprattutto per quanto attiene il discorso dei dipendenti quindi personali in malattia, legge 104 e cerchiamo di documentare eventualmente questi abusi che vengono fatti dai dipendenti non proprio corretti ovviamente facciamo anche delle indagini sulla concorrenza sleale sempre in ambito aziendale e poi le classiche indagini di infedeltà coniugale Al di là del rapporto che si rompe tra un marito e una moglie c'è anche un aspetto poi economico quindi diciamo che un'agenzia investigativa interviene in varie fasi nella fase della separazione, del divorzio della valutazione se una parte piuttosto che l'altra sta lavorando quindi ha una capacità reddittuale come gestiscono i figli minori quindi diciamo che la nostra attività viene svolta un po' in tutte le fasi della separazione e del divorzio sta crescendo anche il discorso soprattutto nella fase, diciamo nella stagione estiva il controllo dei giovani cioè i ragazzi tra i 13 e i 18 anni in cui i genitori si sentono alcune volte non riescono a controllare i figli e vogliono stare tranquilli che non prendano delle brutte strade ovviamente sempre la preoccupazione è quella della droga o dell'abuso di alcol facciamo diverse indagini diciamo soprattutto nel centro Italia dove operiamo con i nostri collaboratori diretti e molto spesso si tranquillizzano o se ci sono delle situazioni di pericolo riescono ad intervenire quindi l'agenzia investigativa è utile per capire qual è il livello della situazione attuale del ragazzo cioè se abusa o se è effettivamente arrivato molto avanti quindi il caso di intervenire Fino a dove ci si può spingere? Quali sono i confini dell'investigazione? Sì, il confine è sempre il diritto da tutelare quindi noi possiamo accettare degli incarichi soltanto se c'è un diritto da difendere sede giudiziaria in questo caso sul controllo dei minori non a caso detto 18 anni perché al compimento del 18esimo anno anche un genitore non ha il diritto di indagare sul figlio proprio perché è maggiorenne quindi finché è minorenne può indagare e vedere se fa queste cose per cui richiede il nostro controllo maggiorenne no e anche per il discorso dell'infedeltà se c'è un diritto nel senso un marito o una moglie possono darci un incarico per fare un'indagine un amante no o il vicino che per curiosità vuol sapere cosa fa quello che abita a fianco a casa sua non può darci l'incarico per cui come base c'è un diritto da difendere se sì noi lo possiamo accettare se no non lo possiamo fare questo per tutelare la privacy ovvio che non siamo tenuti a informare la parte che stiamo facendo un'indagine proprio se c'è un diritto perché altrimenti sarebbe inutile fare un'indagine se avverto che indagheremo su di lui l'investigazione ha un punto d'arrivo con la presentazione di un rapporto al cliente ma un rapporto che può essere anche presentabile in sete giudiziare un documento attestato da questo punto di vista sì certo molto spesso diciamo un buon 50% la nostra attività finisce davanti a un giudice con una testimonianza dove confermiamo quello che siamo riusciti ad acquisire durante la fase di indagine per cui ovviamente la nostra è un'attività autorizzata abbiamo una licenza della prefettura di Pesurbino già dal 1997 per cui possiamo svolgere indagini e possiamo andare a confermare quello che abbiamo tirato fuori dalla nostra indagine e continuiamo ora ad andare alla scoperta degli angoli di atmosfera natalizia che si stanno creando nel nostro territorio nelle prossime servizie andiamo a Monbaroccio dove nelle weekend è stata inaugurata la 24esima edizione degli eventi natalizi nel Borgo e da anni diventato una tappa fissa del Natale della provincia di Pesurbino non soltanto per i cittadini del territorio sabato scorso sono ripartite le magiche atmosfere del Natale di Monbaroccio un Natale nel Borgo Storico organizzato dalla Proloco per il 24esimo anno appuntamento che parte integrante del Natale che non ti aspetti e che continuerà a riproporre la sua magia anche nelle giornate del 2, 3, 8, 9 e 10 dicembre abbiamo diverse ambientazioni dalla Casa dei Pinguini al Palazzo Ducale il villaggio in miniatura della Lemax la Casa delle Lanterne il paesaggio invernale il villaggio montano e quindi Monbaroccio si veste a festa proprio per ospitare e per accogliere i visitatori al meglio vedere il borgo così pieno così tante persone crea un'economia nel territorio straordinario sono veramente orgoglioso perché abbiamo iniziato un percorso tanti anni fa la Proloco di adesso voglio fare i complimenti al presidente della Proloco di Monbaroccio Marco perché sta veramente facendo un gran lavoro ha iniziato da poco ma sta veramente facendo tanto la prima novità crederò che sia anche la più valorizzante per questo borgo è la riapertura di Palazzo del Monte con l'impegno dell'amministrazione nel dar corso all'intervento di ristrutturazione abbiamo avuto l'opportunità e la fortuna di utilizzare un primo locale però è un passo fondamentale è un primo locale di questo bellissimo di valore storico-artistico Palazzo del Monte dove abbiamo allestito un villaggio in miniatura con dei pezzi da collezione della LEMAX con delle ambientazioni molto particolari grazie a Beatrice alla nostra direttrice artistica di questo evento abbiamo voluto far combaciare l'evento di inaugurazione dei mercatini con quello che è la giornata di ricordo della violenza di genere in un aspetto di festa che è quello che riguarda il nostro borgo grazie al lavoro dei volontari che hanno contribuito tantissimo ogni giorno sacrificandosi dalla mattina alla sera per far sì che quello che oggi avete visto fosse e potesse essere realizzato c'è una collaborazione delle associazioni delle istituzioni di tutti quelli che sono i collaboratori che possono partire dalla protezione civile nonché le forze dell'ordine tutti quanti insieme per far sì che questo borgo prenda e viva di luce proprio perché è meraviglioso e può dare tanto musei aperti circostanze di visibilità a 360 gradi con camminate panoramiche aspetti sociali culturali economici valori utilizzazione dei prodotti tipici insomma c'è tutto e c'è anche Babbo Natale naturalmente sindaco che ha poi ricordato altri contributi fondamentali per la crescita della comunità mombaroccese ci tenevo comunque a ringraziare tutte le attività produttive del posto che hanno collaborato alla riuscita dei nostri mercatini un'economia che non svolge solo quella che è un'operazione di fatturato e reddito ma che diventa un'economia sociale tra questi sponsor tutti nel territorio ma ci tenevo a ringraziare in particolar modo la banca di credito cooperativo di Pesaro che ha contribuito in maniera importante non solo alla realizzazione dei mercatini ma anche all'estimento di una nuova realtà come quel banco ma che tanto mancava alla comunità mombaroccese dopo la chiusura della filale di Intesa San Paolo quindi grazie a tutte le attività produttive grazie a tutti i nostri volontari grazie a chi collabora con un'economia in particolar modo che fa bilancio sociale per la mia comunità mombaroccese e vi ricordiamo che potrete approfondire ulteriormente il Natale di Monbaroccio nello speciale dedicato che Rossini TV trasmetterà domani mercoledì 29 novembre alle ore 21.40 dalle Natale ora passiamo al Capodanno quello di Pesaro che in Piazza vedrà le esibizioni musicali di Colapesce di Martino e di Valerio Lundini e Iva Zanicchi saranno gli ingredienti del Capodanno che Radio 2 terrà a Pesaro dando il benvenuto alle primo giorno dell'anno di Capitale della Cultura e la 45esima edizione delle Rossini Opera Festival in programma a Pesaro dalle 7 alle 23 agosto del 2024 è stata presentata nella sede delle Consolato d'Italia a New York sono intervenuti le consule generale Fabrizio Di Michele il sindaco di Pesaro Matteo Ricci il sovrintendente Ernesto Palacio e il direttore artistico Juan Diego Florez il programma mai così ampio coprirà un periodo di bene 17 giorni 4 in più del consueto saranno proposte ben 5 opere le due nuove produzioni di Ermione Bianca e Fagliero e le tre riprese di L'Equivoco Estravagante il Le Barbiere di Siviglia e il Le Viaggio a Reims dei Giovani dell'Accademia Rossignana e dopo l'adesione di Acqualania e di Macerata Feltre anche i comuni di Borgo Pace e Carpegna alderiscono al progetto di promozione e valorizzazione turistica dell'itinerare della bellezza ideata e curata da Confcommercio Marche Nord un accordo stretto dalle direttore Merigo Verotti con i due sindaci Romina Pierantoni e Mirko Ruggeri due comuni delle aree montane particolarmente rilevanti dal punto di vista paesaggistico culturale ed enogastronomico e le delegazioni della città Letton di Valmiera e delle città albanesi di Troppoia e Fusce a Rez hanno fatto visita alle comune di Vallefoglia nello scorso weekend rinsaldando un rapporto di cooperazione con l'amministrazione delle sindaco Palmierucchielli per le delegazioni straniere è stata un'occasione utile per visitare le aziende di Vallefoglia leader a livello nazionale e internazionale dei settori del legno della refrigerazione e delle vetro dove al riguardo sono stati presi contatti che nel futuro potrebbero concludere in accordi commerciali weekend in cui gli ospiti hanno potuto assaporare anche il gusto dei prodotti della rassegna Vallefoglia d'autunno e domani mercoledì 29 novembre alle ore 18 all'Alexander Museum Palace Hotel si consegnerà la sedicesima edizione delle premio Raffaello che dalle 2008 il conto Alessandro Marcucci Pinoli consegna personaggi particolarmente distintisi nel mondo dell'arte e della cultura a ricevere il premio quest'anno sarei le filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciar e ora concludiamo parlando di sport e con la Vispesoro che festeggia i suoi 125 anni di esistenza come società calcistica un compleanno speciale che sarà celebrato il prossimo 6 dicembre 1898-2023 125 anni di vispesoro un compleanno che pochissime società in Italia possono vantare un compleanno che la vispe festeggia il 6 di dicembre all'Hotel Baia Flaminia a partire dalle 19.30 con che tipo di evento? coinvolgerà tutte le altre squadre minori di calcio coinvolgerà tutto il settore sportivo di altri sport coinvolgerà tutti i politici coinvolgerà tutte le autorità sportive e locali è un evento è una festa della città è la festa di una storia una storia lunga che verrà testimoniata da tante iniziative alcune le possiamo svelare altre magari no ci saranno le vecchie glorie ci saranno i cimelli ci sarà tanto anche da far commuovere una piccola galleria di cimelli di maglie originali indossate dai nostri giocatori ma il colpo bello il colpo di grazia diciamo così lo darà alla fine Vergari con i suoi filmati questo filmato ricorderemo rivivremo i momenti più belli più magici ricorderemo persone che non ci sono più ricorderemo situazioni di felicità di gioia di sofferenza anche ma 125 anni sono tanti quindi è inevitabile che ci siano tutti questi momenti e poi ci sarà la squadra di quest'anno al completo ovviamente poi ci saremo tutti noi i tifosi che quest'anno in particolare si sono ritrovati in tutti i gruppi organizzati si sono ritrovati insieme sono uniti e sono una grande gioia per tutti noi vederli cantare ballare tutte le partite con quell'entusiasmo che ci danno una carica incredibile per tutti i 97 minuti di gioco sono proprio i tifosi ad aver pensato questo tipo di appuntamento la vispesoro ha raccolto appunto l'invito dei suoi supporter spieghiamo comunque come si fa a partecipare è un evento aperto al pubblico ma comunque con posti limitati partecipare non sarà facile perché con tutti questi inviti che abbiamo fatto più di 600 posti non ci sarà la possibilità però ancora qualche cosa è rimasto anche perché ci sono state delle defezioni per influenza impossibilità qualcuno gioca ancora c'è anche Gasperini per esempio tra i nostri invitati che speriamo ci mandi un saluto all'allenatore dell'Atalanta ma del resto come puoi sperare che possa avvenire per cui ecco per tutti questi motivi si sono create una serie di posti ancora disponibili e gli inviti vanno ritirati a Bar Zungo che è vicino allo stadio e allora buon compleanno alla Vispesora per questo bellissimo traguardo dei 125 anni e con quest'ultima notizia di sport termina qua il nostro telegiornale prima però di salutarvi vi ricordo la programmazione in onda su Rossini TV si comincia subito questa sera alle ore 20 quindi subito dopo questa prima edizione del nostro telegiornale perché vi mostreremo lo speciale TV dedicato alla diciottesima edizione della borsa di studio Guido Palucci e alla consegna della sedicesima edizione delle premie Giovani Talenti e poi nuovo appuntamento questa sera alle ore 21.20 come tutti i martedì con Amministrando verso le elezioni 2024 questa sera nella puntata condotta dal nostro Antonio Astuti ci saranno in studio Michela Vitri delle PD e Nicola Baiocchi di Fratelli d'Italia e vi ricordo anche il consueto appuntamento della nostra rassegna stampa domani mattina come sempre saremo in diretta alle ore 7.20 anche sulla nostra pagina Facebook le repliche che vedete in grafica 8.20 12.20 14.20 e 18.20 ed è davvero tutto vi ringrazio per essere stati con noi vi auguro un buon proseguimento di serata che vedete in grafica